Musica Allora, stenta ad arrivare questa vittoria, nel Ligols Aprilia non c'è tranquillità, quando non mancano i risultati purtroppo è difficile poi anche ad analizzare certe partite. Sì, non è facile, però il gruppo si sta ricomponendo e partita dopo partita stiamo migliorando tantissimo, sia nei movimenti che negli schemi. Allora, nel primo tempo hai faticato tantissimo, hai difeso in maniera esemplare la tua porta, c'è stato anche il vantaggio, avete chiuso la prima frazione, nel secondo tempo avete gestito forse un po' malamente anche l'ingresso in campo, è stato un po' a rilento da parte vostra. Sì, abbiamo queste difficoltà nell'approccio tra primo e secondo tempo, purtroppo cerchiamo sempre di velocizzare il gioco, però è il nostro discapito, purtroppo diamo valla all'avversario e poi puntualmente una deviazione, veniamo punite. Ecco, c'è stato poi il ritorno del Formia, il pareggio, il vantaggio loro, poi se ritornate voi a quel punto poteva vincere sia l'una che l'altra. Sì, partita molto combattuta e tirata, comunque con il Formia abbiamo sempre dei scontri molto caldi. Allora, Formia, due vittorie consecutive, si è un po' rallentata questa corsa, credevate nella vittoria, anche se al primo tempo qualche cosa vi è mancato un po' nel vostro carattere forse? Purtroppo sì, il primo tempo abbiamo sbagliato forse proprio la mancanza di meno grinta abbiamo messo nel primo tempo, non ci abbiamo creduto fino alla fine, però stiamo crescendo, comunque stiamo due vittorie, un pareggio, il pareggio non lo buttiamo, non è male, però ci poteva stare la vittoria, ma ce la teniamo stretta questo pareggio. Certo, vincere qui su questo campo, poi tra l'altro contro una diretta concorrente, sarebbe stato un bel passo in avanti per il Formia? Sicuramente, comunque siamo una delle squadre che devono lottare per la salvezza, quindi noi ci facevano piacere questi tre punti, come sicuramente anche a loro, però ce lo teniamo stretto questo pareggio, è andata così e ce lo teniamo stretto. Ma che cosa è che poi alla fine succede, anche poi in questi frangenti, c'è un po' troppa confusione, forse la paura di perdere o di perdere un risultato che già si è in mano, che cosa prevale più di tutto? Penso, questo è comunque il nostro secondo anno conseguito in Serie C, sicuramente anche un po' di mancanza di esperienza, perché comunque siamo delle ragazze giovani che stanno abbiamo creato un nuovo gruppo quest'anno e stiamo lavorando per questo. Sicuramente c'è ancora tanto da crescere e ci crediamo, crediamo di poterlo... Un campionato difficile tra l'altro. Sicuramente, quest'anno è un campionato molto difficile anche rispetto all'anno scorso, però stiamo lavorando bene sia come gruppo sia come con il mister, anche con la società che ci crede tanto in noi, quindi lavoriamo in silenzio, ci mettiamo in campo e vediamo fino alla fine come andrà a finire. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.